Siamo in segna dell'eterogenia, sfilate super versatili, direi che la prima vera estate si colora non solo di colore ma anche di capelli, quindi capelli raccolti, capelli disciplinati con reghi in mezzo, liberi nella parte posteriore, grande, grande, grande styling. Quindi il styling di quest'ultima sfilata dove si sviluppa con una specie di talk sviluppata da una treccia, questa specie di cappellino, con un movimento posteriore che convergono su un laterale dove poi viene tutto racchiuso in uno chignon. Come viene sviluppato? Sono capelli bagnati, un mix di schiuma e di gel per poter contenere e un districcante sulle punte in modo tale che il capello sia più facile e scivoli più facilmente nell'intraccio. Il tutto poi prima della sfilata avremo chiaramente bisogno di disciplinare gli ultimi baby hair con L-Net, senza che chiaramente la regina delle lacche che permette di avere uno sviluppo super naturale nel momento in cui è applicata. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.